E' stato arrestato due volte per percosse e lesioni aggravate. Tre stelle Michelin è diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melampo. Timo, maggiorana, pepe nero, cipolla. Porca puttana, li hai azzeccati tutti. Alla patente? È il foglio rota. Sono ragazzi con sindrome di Asperger. Ditemi gli ingredienti che ho usato. Il pollo è una zuppa di pesce. A me il pesce fa cagare. Dì la verità, sei anche tu ai servizi sociali. No, guarda che qui lo nevo criminale sei tu. Marione mi garantisce che sei uno apposta. Si tratta di un lavoro a tempo determinato. Determinato quanto? I ristoranti si aprono e si giudano. Io voglio andare al concorso! Ci andrai al concorso e farai del tuo meglio, va bene? Però adesso apri sta porta. Partiamo mercoledì alle 15.30, d'accordo? Ma partiamo qui? Se vinco lo stage, mi pagano. Mi compro la macchina e trovo una fidanzata. Ah, è automatico. Vinci lo stage e vinci anche la fidanzata. Sì. Papà, ti presento Guido. Piacere. Però tu adesso mi devi dire qualcosa del tuo di padre. Si arrabbiava sempre con me. E lo sapeva che tu sei. Ah, Asperger. Eh. No. Lui pensava che ero scemo. Secondo te le piaccio? A parte che ti vesti di merda se è un bel ragazzetto. Non t'ho sentito! Full power! Full power! Full power! Lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Che se ci persi siamo solo di passaggio E per quanta strada ancora c'è da fare Traffica in aumento. Una macchina sola, con calma. Traffica in aumento, Arturo? Ah, Guido. E basta. Ecco quanto basta. Basta così. Già il finale. Già il finale.